Io sono innanzitutto un paziente, faccio parte di un'associazione che è FEDEMO, dell'associazione emofilici, delle associazioni emofilici italiane, è una federazione e noi crediamo che il ruolo del paziente debba evolversi, cioè non più solo un portatore di interessi, ma un portatore di interessi con competenze. Se è pur vero che abbiamo delle competenze specifiche che riguardano la nostra patologia e i modelli di assistenza, è anche vero che questo ruolo deve evolvere e deve essere in grado di dialogare con tutte le istituzioni, perché ci sono continuamente aggiornamenti normativi, modifiche ai modelli di assistenza, nei farmaci, quindi per questo sono tutti punti che vanno presidiati e che riteniamo debbano coinvolgere quanti più pazienti possibili, comunque rappresentanti delle comunità. Per questo ho deciso di partecipare e sono con altri colleghi e spero di poter portare quanto apprendo oggi poi nella nostra stessa associazione, cercare di trasmettere questo senso di appartenenza da una parte, ma anche comprensione di quali sono i ruoli degli altri attori, degli altri stakeholder che via via si incontrano ai tavoli tecnici per esempio oppure con le istituzioni.